Buongiorno a tutti, buongiorno dai Bagni Lido 3, siamo in diretta, sono le 7 e mezzo come tutte le mattine, tra poco leggeremo i giornali, guardate che splendida giornata di sole oggi, vi portiamo nelle vostre case con questo stabilimento che sta mettendo a punto le ultime cose, pronto per un'altra giornata di sole, un'altra giornata di mare con tanta gente che tra poco affollerà questa spiaggia e si getterà tre acque appunto di questo bel mare che questa mattina ci fa da cornice, mentre ci mettiamo nella nostra postazione, oggi siamo sulla sabbia, guardate che bello, la nostra postazione con i nostri due quotidiani, prima però come sempre andiamo a vedere il santo del giorno, oggi la chiesa cattolica ricorda San Pietro Anagni, vescovo, e il sole sorge alle 5 e 51 e tramonterà alle 20 e 38 minuti, per quanto riguarda invece il tempo, il tempo per la giornata di oggi sarà un cielo sereno con temperature che oscillano tra i 19 e i 30, 32 gradi, sarà cielo sereno per tutta la giornata, così per la giornata di domani e giovedì e mentre per venerdì comincerà a cambiare un po' il tempo, arriveranno i primi temporali, ma andiamo a leggere adesso subito i quotidiani, cominciamo, guardate, dal resto del carino, il resto del carino pubblica questa mattina l'edizione di Pesaro, guardate la fotografia, è davvero incredibile, una foto possiamo dire shock, certo lo possiamo dire perché, ve la spiego un secondo, vedete quella cerchiata è l'auto contromano di un 76enne che ha percorso 10 km contromano in A14 tra Pesaro e Cattolica, poteva fare una strage, guardate, queste sono le macchine che giustamente vanno nel senso di marcia, quindi vanno verso Bologna, questi sono i fari posteriori, questa e questa stanno andando verso nord e questa, guardate, sta andando, è l'auto del 76enne, sta andando nel senso contrario, il verso giusto è questo di qua, quelli che vanno verso sud, non nell'altra corsia. L'auto del terrore, questo è il titolo del resto del carino, entriamo dentro e andiamo subito nella pagina invece che si occupa sempre del terrore in A14, anche qui alcuni scatti, vedete quell'auto schivata per miracolo, la polizia autostradale di fondo, delle sequenze dell'impazzita, l'appunto sulla quale viaggiava questo 76enne di Riccione, ma dicevo andiamo subito nella pagina di Pesaro dove si racconta la prensione di 113 pesaresi che hanno partecipato al giubileo dei giovani, vedete dopo che una ragazza romana è stata colpita da meningite durante il giubileo dei giovani a Cracovia che purtroppo è morta per una forma fulminante di meningite, la comitiva pesarese ha subito seguito la profilassi, sono scattate tutte le procedure sanitarie per cui hanno dovuto prendere gli antibiotici, stanno tutti bene questi 113 ragazzi partiti da Pesaro per partecipare alla GMG, preoccupazione per alcuni ragazzi che si sono sentiti male, per fortuna però era solo dell'influenza, tutto è andato bene, però dopo la gioia certamente di questi momenti vissuti insieme al Papa, insieme a tanti giovani in comunità poi questa brutta esperienza. La pagina di Fano invece del resto del Carlino si occupa di Aset Holding, il caso di Aset Holding, fuori l'esposto, si accendono i toni dello scontro, è guerra di carte, l'azienda risponde a Santorelli e Del Vecchio, loro dicono state sereni, critico Massimo Seri, la questione si doveva concludere in consiglio, invito a non usare questi strumenti che è appunto l'esposto che Santorelli e Del Vecchio hanno presentato in procura, Santorelli vedete con l'esposto in mano e sotto il collega dell'opposizione Del Vecchio e qui c'è invece la notizia che tutti abbiamo dato con un certo risalto, ovvero che il sindaco, il sindaco lo vedete con la maglietta gialla, il sindaco Massimo Seri si è messo a pulire insieme ad un altro collega assessore, ad altre persone, cittadini comuni, si sono messi a pulire alcuni monumenti storici, ricorderete il pensionato che qualche giorno fa lo stesso ha ricevuto una multa, lo stesso nel senso che puliva, ha pulito per anni un giardino pubblico ma è stato multato di 500 Euro, appena poi sanzione ridotta a 100 e qualche cosa, ebbene il pensionato che è stato multato adesso si domanda ma come? Io ho ricevuto il verbale e la multa perché non dovevo tagliare, potare, pulire eccetera, il sindaco pulitore perché a lui niente sanzione? Questa è la domanda e adesso attendiamo certamente la risposta. Tuffo nel cinema horror col drive-in acquatico, questa è una bella iniziativa che vi voglio segnalare, tra l'altro simpatica, domani a Fosso Signore si proietta un film sui Piranha, quei pesci che sapete tutti, uccidono, possono sbranare tranquillamente un animale che finisce in acqua oppure una persona in qualche secondo. Pesci carnivori, schermo in spiaggia e la platea guardate dove si guarderà il film, in acqua, stando in acqua di notte a vedere un film sui Piranha, bellissimo, l'anno scorso è andato altrettanto bene ma l'anno scorso si proiettava lo squalo che era un altro di quei film che da vedere in acqua fa un certo effetto. Profiglass invece, l'ira del comitato, ditteci che cosa è bruciato nell'incendio di 15 giorni fa, ancora nessuna risposta, le rassicurazioni di mascherine, l'assessore non convincono. Poi l'incidente che c'è stato tra Fano e Pesaro vicino a Gimarra, Fiorelli dice mio padre è un miracolato, migliorano per fortuna le condizioni dell'anziano travolto sulla statale, l'intervento di mio padre è andato bene, spero me lo trasferiscono presto a Pesaro e quindi Pier Stefano Fiorelli che tra l'altro è vicepresidente provinciale della Confesercenti si è mostrato tranquillo dopo il grande spravento della prima sera. Il padre è l'uomo di 86 anni che è stato centrato da una moto lunedì lungo la statrale adriatica nord e quindi questa è la buona notizia. Chiudiamo il resto del carlino, adesso apriamo il Corriere Adriatico, facciamo vedere un attimo di nuovo ancora, stacchiamo da un giornale all'altro, facciamo vedere ai nostri telespettatori che ci seguono in diretta dove siamo questa mattina, che cosa stiamo facendo, la rassegna stampa con i ragazzi che stanno pulendo la spiaggia piano piano, metro per metro con paletta, secchiello, insomma tutto quello che serve, tutti gli strumenti per controllare che la sabbia non abbia detriti, non abbia cicche di sigarette, non sia sporca, quindi siamo ai bagni, lì do tre all'io di fame, il mare è una tavola questa mattina, il vento non c'è, c'è un sole che sta cominciando a scaldare, però non vedo nessuno ancora, solo qualche anziano che sta camminando sull'acqua e sta facendo soprattutto ginnastica sull'acqua, che è una di quelle cose che andrebbero fatte per mantenersi in forma e per riattivare anche la circolazione sanguigna. Stacco finito, torniamo sui giornali con Filippo Pucci che piano piano torna sul quotidiano, allora velocemente sul Corriere Adriatico, questa è l'edizione di Pesaro, vedete 5 siti per Google Maps, Google Maps sceglierà il luogo dove costruire l'ospedale unico che servirà a Fano e Pesaro, c'è una sorpresa, precipitano però invece le chance di Fosso Signore, emergono i limiti di muraglia, salgono invece le chance per il sito di Chiaruccia a Fano. Ed eccolo qua, la pagina 2 in primo piano, se volete avete tutto il quadro con i pro e contro di questi siti scelti da Google Maps. Poi andiamo sull'altra pagina, allarme meningite dopo i primi giorni di gioia, profilassi per tutti al ritorno da Cracovia, shock per la morte della ragazza romana, grande paura per 300 pesaresi transitati a casa Italia. Il dottore Agostini dell'Asur dice nel meningococco di tipo C il contagio è però molto limitato. Le altre pagine del Corriere Adriatico le andiamo subito a sfogliare velocemente, arriviamo alla pagina 13 dove si parla di bivacchi e risse, l'altra faccia del centro storico pesarese, segnalazioni continue alle forze dell'ordine dove sono presenti i distributori self service aperti 24 ore, monitorato il Miralfiore, ritenuto anche una zona franca per i regolamenti di conti tra gruppi rivali, addirittura sembra quasi il Bronx, arrestato in stazione invece con duetti di cocaina, l'uomo sorpreso dai carabinieri giunto con l'autobus da Fano, si tratta di un quarantenne. E poi ancora altre pagine con notizie che arrivano da Pesaro e dalla provincia. Noi andiamo a Fossombrone dove attenzione alle truffe, comunicazioni di Equitalia arrivano attraverso le email, sono falsi però questi avvisi di pagamento che arrivano attraverso la posta elettronica con riferimenti normativi corretti però sono corretti come trappola. Se volete avere informazioni potete chiamare un numero verde che è quello di Equitalia, 817 80 78. Andiamo adesso sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico, la città senza un'identità turistica, si riparta dunque dalla Fano dei Cesari, lo dice Capecchi, Renzo Capecchi che dice non dobbiamo essere una spiaggetta festiva per il turismo geriatrico, solo per anziani. Passaggio e Fano Gez, dice ancora Capecchi, sono delle belle manifestazioni ma manca il rapporto con il territorio. E poi dice una cosa, lamenta la mancanza di un grande evento e di un brand e poi dice basta con le festicciole. I lavori di asfaltatura invece di questi giorni fanno un po' arrabbiare, però bisogna avere pazienza, dice l'assessore Marcheggiani, dobbiamo fare tutto entro dicembre, i turisti e i residenti appunto portino un po' di pazienza. La città si tuffa invece nel passato con la sfida dei quattro canton, in dialetto sarebbe i quattro cantoni, domani e venerdì la rivisitazione della festa in cinque angoli del centro storico domani. Poi la cronaca, una bambina che è rischiato proprio qua vicino di annegare, è stata salvata, dal soccorso tempestivo l'allarme a Lido Verde, il 118 porta la piccola al Santa Croce e poi all'eliambulanza, aveva acqua nei polmoni, ora però è fuori pericolo indagine dell'ufficio circondariale marittimo. Chiudiamo la pagina di Fano, Profilglas, il comitato scettico, resta il silenzio sull'incendio, Mascarino esclude disastri, ma nessuno ci vuole dire che cosa è andato bruciato. La pagina di Senigallia si apre con la complanare che è l'ultimo atto, il collaudo e poi ci sarà l'inaugurazione e poi il Summer Jamboree, arriva la festa hawaiana, ragazzi è pieno di gente, è una cosa incredibile questa festa che praticamente richiama a Senigallia migliaia e migliaia di persone, rischio caos, l'assalto a Summer Jamboree, serata da bollino rosso per traffico, per il traffico ecco il piano antingorgo, servizio di busta vetta che garantiscono collegamenti con il casello dell'autostrada e anche con i parcheggi. E poi guardate qui la beffa, sembra un trasloco, in realtà è un furto che sta avvenendo dentro una casa, il vicino però pensa che sia un trasloco, il vicino di casa quindi lascia fare, dice che questi stanno traslocando, quindi si sta facendo un trasloco, i ladri indisturbati portano via tutto, blizzi in via Pierelli, sventati altri due colpi, truffatori in ospedale e questa è la rassegna stampa di questa mattina che si chiude dunque qui con la pagina di Senigallia. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata, ci rivediamo domani mattina sempre da un altro punto della città per iniziare questo nuovo giorno, domani ci sarà ancora bel tempo quindi saremo in esterna, a voi tutti l'augurio di una buona giornata e ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale. Vi ricordo che per le vostre segnalazioni, per noi sempre molto importanti, c'è il nostro numero 338 4968 250 che potete utilizzare anche attraverso WhatsApp. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.